subito difficile di giungere devi vedere un po' più avanti là ci sono quante case qua non c'è qua qua bene o qua tutti occupati va bene e ora sempre è un problema per l'affitto io per dare l'affitto alba nuova, casa benzina niente devi vedere un po' più avanti se troppo perché più avanti ci sono qualche case devi vedere ok scusate va bene non 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 non